Vengono collocate nella crit di Sansepolcro, è qualcosa assolutamente in continuità con la tradizione di questo luogo. Probabilmente avete visitato anche la Chiesa Superiore e vi siete accorti che vi sono ben quattro gruppi statuari che sono circa della fine del Cinquecento. In realtà la modernità e la concezione di quelle statue è trasposta, corrisponde alla multimedialità e all'arte di il viola mutati e smutati. Siamo quindi molto felici di avere nella Chiesa Superiore questa opera di questo grande artista contemporaneo, ma io non voglio dilungarmi, vorrei lasciare subito la parola all'assessore.